qual è il parto più adatto a te? quello che ti fa sentire più serena e sicura puoi farlo a casa o in ospedale, seduta o in acqua puoi affrontare il dolore con l'agopuntura o con i massaggi avere vicino chi vuoi ed essere libera di muoverti scegli dove partorire e come sarà il tuo parto puoi farlo con l'app non da sola ti interessa anche il clampaggio tardivo del cordone umbilicale? ah sì, c'è anche questo sull'app grazie